...55 Valentini, 96 Pulumello, allenatore il signor Patrissi Andrea, con il numero 3 Niccolò Marveri, 7 Lorenzo D'Aliacolo, 8 Radu Graviti... ...e ricordiamo che sabato il 18 settembre ci si chiuderà l'undicesima gara di annata con il collo al spasso e il porto maniero... ...e l'orismo che augura Buon Natale!